Oggi presentiamo nel dettaglio le potenzialità di Revo NX, lo CT di Optopol da 110.000 scan al secondo circa gli esami di angiografia OCT grazie al nuovo software 9.0. Considerata la velocità dello strumento l'acquisizione è ultra rapida e soprattutto totalmente automatizzata. Selezioniamo il programma di scansione angio standard da 3 mm per 3 e premiamo il pulsante start. Sono possibili acquisizioni fino a 10 mm per 10 anche utilizzando la modalità angio mosaico. L'acquisizione è totalmente automatizzata e il software mette a fuoco automaticamente la fovea e fa l'acquisizione. Terminata l'acquisizione facciamo doppio clic per entrare nell'analisi dei risultati. Vengono analizzate le classiche quattro aree, il plesso superficiale, il plesso profondo, la zona esterna vascolare e la corio capillare. Poi c'è l'enfas e la mappa codificata colori. Per ciascuna area è possibile modificare la zona di analisi spostando gli strati per vedere al meglio determinate patologie. Passiamo alla visualizzazione dettagliata dove è possibile misurare la fase. selezioniamo superiore e clicchiamo sulla zona centrale della fase. Il software mi informa su area, perimetro e circolarità della zona avascolare della fovea. E' anche possibile misurare il flusso vascolare degli strati profondi avascolari, modalità quest'ultima molto utile per analizzare le CNV. Selezioniamo lo strato corio capillare e cerchiamo di evidenziare al meglio la neovascolarizzazione. Entriamo nella modalità di analisi per calcolare il flusso vascolare di una determinata area. Quindi cerchiamo un'area delle CNV e il software calcolerà l'area e il flusso della CNV nell'area selezionata. Grazie. 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 Grazie.